Il centrocampista Walter Piccioni, con un curriculum che banta presenze nel Savona, nella Ternana, Salernitana, Campobasso, Avellino, il centrocampista Stamilla, ex Gela, Perugia, Piacenza, San Giovannese, l'attaccante brasiliano Franziel, ex Gela, Valle del Giovenco, l'attaccante Iadaresta, ex Fano, Prosesto, Torres, Siena, Vaddisangro, il centrocampista Imperio Carcione, ex Benevento, Brindisi, Salernitana, Cassino, Infine, il difensore centrale Maurizio Balestra, ex Sapri e Centobuchi, giocatori con caratteristiche diverse, utili all'Aquila Calcio, giocatori selezionati e scelti come sempre dal consulente di mercato Ercole Di Nicola, che ancora una volta ha saputo assicurare all'Aquila acquisti di tutto rispetto. Innanzitutto sono stati scelti perché penso che la squadra quest'anno abbia dei problemi lì davanti, quindi abbiamo bisogno di gente capace di dare tecnica, di dare velocità, di dare qualcosa in più che nel giro di andato è mancato. Molto soddisfatto infatti anche il mister Leonardo Bitetto che sta valutando l'impiego già da domenica nel recupero con la San Giovannese di questi nuovi giocatori. In assoluto, dobbiamo cercare di ottenere il massimo dei risultati anche perché dobbiamo prima di tutto riscattarci delle precedenti due sconfitte consecutive e poi c'è l'entusiasmo, c'è la curiosità dei nuovi acquisti che ovviamente hanno portato maggiore qualità al gruppo, una maggiore competitività anche all'interno dello stesso, anche perché adesso è abbastanza numeroso e competitivo. Grazie.